Anche prima di Porta a Porta con Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico. A lui chiederemo se si farà questo benedetto governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ci sono un po' di rumori nella base, con testa della trattativa, sia da una parte sia dall'altra. Ci sono attualmente anche i favorevoli e poi ci chiederemo se salta l'accordo, ci sarà il voto in ottimo. Nella seconda parte di Porta a Porta parleremo dell'ergastolo dopo 31 anni all'assassino di una ragazza e di una studentessa, diciamo delitto molto complicato e sentenza anche parzialmente controversa, e poi l'intercettazione dei killer di Pamela che rimproverano ad uno di non averla fatta a pezzi per poi mangiarla. E chiuderemo con la vicenda del bambino britannico, Elph Evans, che i genitori dicono, giudici, lasciatelo curare in Italia. Allora, come sta? Bene, bene. Si aspettava... Combatto. Combatte, ma all'interno? Ma no, in generale è una situazione molto particolare per cui bisogna avere tenuta e ci si prova fino in fondo. Allora, ieri sulla sua poltrona c'era Graziano del Drio, che ha avuto la camera, e io ho detto, ma ho saputo che prima che voi andaste da Fico, dove tornerete domani mattina per chiudere, perché il Mattarella è stato inflessibile, nel senso il giovedì deve riferire, il giovedì riferisce, allora vi vede domani mattina e poi domani pomeriggio andrà il Presidente della Repubblica a vedere se ci sono le ipotesi d'accordo oppure no. Beh, ho chiesto, ma è vero che prima di andare vi siete riuniti e Martina era per l'apertura, il Presidente dei senatori Marcucci, il Presidente del Partito Orfini, totale chiusura, e Del Drio era una via di mezzo. Lei è così aperturista, lei è convinto che si possa fare un accordo? No, guardi, io penso che dobbiamo partire dall'inizio, e l'inizio è il 4 di marzo. Quel voto, quel risultato, questi 50 giorni sostanzialmente di caos, di stallo, di grande difficoltà, io rivendico la posizione del Partito Democratico di queste settimane, noi abbiamo fatto bene a riconoscere chiaramente quel voto, a riconoscere l'onere e l'onore della responsabilità di indicare una strada per le forze che hanno prevalso il 4 di marzo, siamo a un passaggio di fase. Dopo 50 giorni, quelle forze, il centrodestra, i 5 Stelle, non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta a proporre concretamente un'ipotesi sostenibile per il governo di questo Paese. E questo è un dato che va tenuto in considerazione... Di meglio ha spento il forno della Lega, almeno così sembra, perché poi i miei Salvini un po' di fiammella la vede ancora. Beh, intanto per 50 giorni Salvini ha raccontato una storia che non c'è stata. Il centrodestra si è diviso, i 5 Stelle hanno avuto le loro grandi difficoltà. Questo è il dato di fatto. E io penso che noi abbiamo fatto bene a dire chiaramente che toccava a loro esprimere innanzitutto un'ipotesi. Quest'ipotesi non è arrivata. Per me è un fatto importante che ieri il principale esponente, leader della forza più votata in questo Paese il 4 di marzo abbia riconosciuto la fine di questa fase, la fine della possibilità di portare a un accordo, un'alleanza, la Lega, il centrodestra, i 5 Stelle. Non ho mai immaginato che questa prospettiva fosse una prospettiva utile per il Paese. Ho sempre detto, e lo dico ancora oggi, che sarei preoccupato da un governo a guida leghista. Nella dichiarazione Di Maio non ha citato se stesso come candidato premier. E invece sappiamo che lui tiene molto a questa. Ma è già una prima concessione o se ne è dimenticato? Guardi Vespa, per serietà, io non mi voglio avventurare dentro queste valutazioni perché ho il dovere adesso di provare a capire se il mio partito riesce a contribuire a sviluppare un confronto utile per il Paese. E il confronto che ne abbiamo aperto anche al nostro interno rispetto a queste ipotesi di lavoro va rispettato. Io lo rispetto, ne capisco tutta la difficoltà. Noi abbiamo sulle spalle una stagione, lo sapete tutti, conoscete quello che è stato, molto complicata. Noi ci siamo scontrati. Noi abbiamo proposto ipotesi e prospettive differenti per il Paese. Abbiamo avuto distanze, abbiamo ancora oggi distanze importanti. È giusto dirlo. Per significare la differenza tra lei e Renzi, è che lei pensa che ci siano i margini di trattativa, Renzi invece dice che siamo talmente diversi che è inutile provarci. No, io penso che questa sfida vada accettata, lo dico con grande chiarezza. Penso che io debba avere la responsabilità di dire chiaramente che ritengo questo percorso, un percorso che il PD deve giocare all'attacco, deve sfidare il Movimento 5 Stelle. Beh, intanto sfidiamolo fino in fondo, per capire se davvero si costruiscono condizioni nuove, per fare cose utili per l'Italia. Per me non è banale se si avrà un governo che guarda ad esempio alla questione europea più nel senso di un tentativo di contribuire alla nuova Europa possibile, con Macron, la Merkel e gli altri Paesi traino della nuova stagione europea, oppure un governo italiano che guarda più ad Orban. all'Ungheria. Per me non è indifferente se... Quindi Salvini, voglio dire, nella ultima versione, perché prima nel programma elettorale diciamo che proprio l'Europa non era al primo punto. Ma se c'è un avanzamento di consapevolezza, di una forza che rappresenta più del 30% degli italiani, io sono solo che contento. Vorrei anche dire che rivendico un pezzo di questo avanzamento. Ho il dovere di fare questo lavoro. So che questo lavoro è faticoso. Come le dicevo prima, rispetto il mio travaglio, il travaglio che c'è nei nostri elettori. È un travaglio vero. Però voglio dire, se voi trovate un accordo, perché poi il programma asciugato da tutti gli estremismi, eccetera, il programma del Movimento 5 Stelle è un programma che paradossalmente può andare bene a tanti. Può andare bene a voi, può andare bene fino a Berlusconi, voglio dire. Ma questo è un punto di sfida. Siccome per me destra e sinistra sono ancora diversi, questo è un punto di sfida nel nostro confronto. Ha ragione chi dice anche sui giornali, in queste ore, che nel cambio di fase i 5 Stelle devono anche fare una scelta, come dire, di approccio al Paese, differente rispetto a quella che hanno portato fin qui. Lo dico con grande rispetto anche della loro discussione. Ma io sono interessato a capire che Italia vogliamo per il futuro. E queste scelte non sono la stessa cosa. Il problema è se allo stesso tavolo il Consiglio dei Ministri a discutere lo stesso programma ci possono essere Martina e Di Maio. Posso dirle una cosa? Guardi, il tema non è nemmeno quello oggi di immaginare un assetto di governo. Arriverà magari, forse, anche quello di... Beh, un poverso, guardi. Certo, ma prima di tutto c'è da costruire, se è possibile, e io ancora non posso dire se è possibile, i fondamentali di un approccio verso il Paese. Alcune grandi idee guida che ti tengono insieme nella diversità... Segretario, tutti teniamo, tenete agli interessi del Paese. Il problema è se la visione, siccome la politica è fatta di visioni, questo avete fatto a cazzotti. Quindi, no, tra voi i Cinque Stelle, gli insulti più terribili del vocabolario. Vere diversità, vere diversità. Archiviato, archiviato. Dobbiamo fare la pace, dobbiamo fare la pace di... Sto per dire Ialta, no? La pace di Ialta fu fatta solo tra i vincitori. Voi facciamo tra i vincitori gli sconfitti. Eh no, quella era solo i vincitori. Quindi significa che per lei si può fare un governo con i Cinque Stelle. Significa che per me è giusto accettare la sfida di provare a vedere fino in fondo se nel confronto facciamo passi in avanti tutti. Le dico con chiarezza, non so se ce la faremo. E vedremo se riusciremo ad aprire questo percorso. Noi siamo ancora in una fase propedeutica ed è giusto così. Perché questo lavoro ha bisogno anche di tempo, non si fa in 448. Io dico che è venuto il momento per l'Italia di mettere in gioco questa disponibilità. E so bene che questa disponibilità ha un prezzo, costa, costa fatica. Io guardi, ho fatto il 25 aprile oggi in piazza. Ho incontrato gente che mi ha detto, no, non fatelo mai! E gente che mi ha detto, fatelo. Perché dovete innanzitutto guardare agli interessi del Paese. Penso di poter dire che se andiamo fuori di qui, troveremo anche io e lei, persone che ci dicono sì e persone che ci dicono no. Rispetto questo dibattito. Stasera il vostro presidente dei senatori, Marcucci, ha convocato l'assemblea dei senatori per il giorno 2 maggio. Prima della direzione, tradotto dal cronista. Renzi vuole capire quanti senatori, prima di andare in direzioni, quanti senatori sono favorevoli e quanti sono contrari. No, non credo che sia questo, anzi... E allora perché l'ha convocati? Non credo che sia proprio questa la logica. Adesso si tratta semplicemente di allineare le discussioni che faremo anche nei gruppi parlamentari con la nostra direzione nazionale. Non ci vedo affatto una chiave, diciamo, politica legata a delle conte. Guardi, Vespa, mi creda, io sono consapevole del passaggio che dobbiamo fare se riteniamo di andare per questa strada. E quindi non ho nessuna difficoltà a dire che c'è bisogno del contributo di tutti. C'è bisogno del contributo di Matteo Renzi per produrre questo passaggio. Non mi sognerei mai di fare questo lavoro da solo. Ne credo che basti la rappresentazione che talvolta noi stessi diamo di noi, e cioè i renziani, gli antirenziani... Beh, ci stanno, eh. E non è che sono un'iniezione giornale che questa. C'è qualcosa di più profondo però adesso in gioco. Ed è il tentativo di comprendere che dopo quello che è accaduto il 4 di marzo con un cambio di scenario politico-elettorale radicale noi cerchiamo il rilancio nella sfida e ci mettiamo in discussione. Lo facciamo per le condizioni date. Io avrei preferito una condizione diversa, come tutti noi, sia chiaro. Ma devo rendermi conto che di fronte a 50 giorni di stallo al rischio di un governo magari trainato dalla Lega per me preoccupante per il Paese o meglio ancora, o peggio ancora, al rischio di un voto anticipato io ho il dovere di provare a mettere in gioco l'energia del Partito Democratico sapendo che quando si fa questo lavoro si pagano dei prezzi, non è mai facile. Allora, sentiamo il consueto diario della crisi di Antonio Polito vice-direttore di Corriere della Sera. Il 25 aprile non ha portato bene all'ipotesi di un governo tra Movimento 5 Stelle e Vichy. L'ex segretario Renzi ha approfittato della festa della liberazione per tornare in pubblico a Firenze e far capire che non solo lui è contrario, ma anche i militanti. Il ministro Calenda, appena scrittosi al PD, già minaccia di lasciarlo se si allea con i 5 Stelle. Il cosiddetto popolo della rete ci sta mettendo del suo. Nella notte, una tempesta di macabri insulti a Giorgio Napolitano, sottoposta a un delicato intervento e in terapia intensiva, è stata vista dalla base del PD come il frutto avvelenato della dura polemica grillina di questi anni e dunque come una prova della reciproca incompatibilità. Per Fico, che riprende domani le sue consultazioni, la strada, insomma, è davvero in salita. Avrebbe bisogno di molto tempo per superare le resistenze delle due basi infuriate, ma quanto gliene sarà concesso? La vera novità della crisi, infatti, è che gli schieramenti si stanno ormai pericolosamente dividendo in due gruppi trasversali. Quelli che provano a fare l'accordo, Di Maio in testa, hanno cominciato a dire che è l'ultima spiaggia, escludendo esplicitamente ogni ipotesi successiva di governo di transizione, di garanzia o del presidente. È un modo per far pressione sul PD, dove invece Renzi sembra credere che se Fico fallisce ci sarà comunque un altro giro a disposizione per rientrare in gioco. Ma è anche un bruciarsi i punti alle spalle che prima o poi potrebbe rivelarsi fatale. Se si aggiunge che Berlusconi paragona addirittura il comportamento dei Cinque Stelle al primo apparire di Hitler, dicendo di temere che i democratici italiani siano perseguitati come gli ebrei e provocando così un nuovo scontro con Salvini, si capisce fino a che punto la tensione tra i partiti stia salendo e quanto i margini di manovra di Mattarella si stiano restringendo. Tant'è che perfino al Quirinale, secondo alcune ricostruzioni, per la prima volta si comincia a temere un ritorno alle urne già in autunno. Allora, approfittiamo intanto per fare gli auguri affettuosi a Giorgio Napolitano. Abbiamo chiamato le persone che sono a lui più vicine e ci hanno per quanto possibile tranquillizzato, nel senso che il decorso postoperatorio è esattamente quello atteso e ne approfittiamo anche per dare una rettifica di Berlusconi alla storia del primo Hitler. Lui dice questa frase, è stata detta, dice lui lo ha chiarito subito, è stata detta da uno dei partecipanti all'incontro ieri a Pordenone e lui la ripresa, dice, per mettere in guardia ad uno stato d'animo che evidentemente è diffuso nel paese che bisogna assolutamente scongiurare con il ritorno del rispetto reciproco da tutte le parti politiche. Il suo partito è molto diviso su questo punto. Perché? C'è un problema di lotte interne, qualcuno dice se Fico fa il governo, Franceschini diventa presidente della Camera, ma guardi, io lascerei veramente da parte qualsiasi gossip sulle persone. C'è un punto vero che va detto ed è chiaro ed è certamente legato alla sconfitta del quattro, a quello che noi dobbiamo fare per rilanciarci, per ricostruire, alla lettura che diamo di quella sconfitta e poi anche a un passaggio oggettivamente delicato. Lo abbiamo detto prima. Noi stiamo provando a ragionare della possibilità che due forze importanti che si sono confrontate in maniera serrata in questi anni provino a trovare una comune iniziativa per fare cose utili per il paese. Non è semplice ed è giusto anche avere rispetto di questa discussione, l'ho detto prima. Io penso che in questa discussione ci possa essere potenzialmente anche una maturazione, un salto in avanti. I partiti devono vivere di questo. Ma ci mancherebbe. Però dico, andando al sodo, domani mattina voi verrete ricevuti da Fico prima dei 5 Stelle che, come è ovvio, chiuderanno l'attentativa. Quali novità sono intercorse in questi due giorni? Non ascolteremo il presidente Fico perché la convocazione è sua e quindi innanzitutto sarà lui a intavolare il secondo giro di confronto. Vi aspettate quindi che Fico si faccia portavoce di nuove proposte da parte dei 5 Stelle. Non posso dirlo io per lui, ma capisco che questo lavoro che sta facendo va completato con un secondo giro prima di riferire al presidente della Repubblica. Di certo, noi in queste ore, in questi giorni, abbiamo cercato di contribuire al primo passo, alla prima fase di questo lavoro. Avete sentito, credo, le cose che abbiamo detto ieri. Io prendo atto delle parole importanti di Di Maio ieri quando in maniera inequivocabile ha chiuso definitivamente il percorso di una trattativa. E quella era la premessa che voi gli chiedevate? Assolutamente sì, perché non ci si può certo immaginare di discutere con noi tenendo aperto anche un altro forno. Adesso si tratta di capire come andare avanti. Per quel che riguarda noi è certo che questa possibilità è legata a una discussione del nostro gruppo dirigente perché noi siamo un partito, una comunità e questa scelta non la fa un segretario da solo né un leader da solo. Ma fa un gruppo dirigente, la fa una comunità. Allora, per capire, rispetto a ieri le vostre posizioni non sono mutate. Chiedete al Presidente della Camera in qualche modo, perché nel primo giro il Presidente della Camera chiede a voi come la pensate, nel secondo le vostre posizioni non sono cambiate, quindi è il Presidente della Camera che dovrà dirvi se sono cambiate le posizioni. ci aggiornerà, immagino, rispetto al quadro e dirà la sua perché naturalmente ha anche la titolarità di avanzare delle proposte, di ragionare. Ascolteremo e per come possiamo contribuiamo a rendere sempre più chiara questa fase. Sapendo, lo dico con grande serenità, che nessuno ancora può rispondere a quella domanda perché siamo in una fase propedeutica e siccome è delicata e siccome ci vuole serietà, grande serietà, io non voglio partecipare a una discussione simile a quella di questi 50 giorni dove tutto era facile, tutto si faceva subito, tutto era nuovo, basta una telefonata in dieci giorni facciamo il governo, mi bastano cinque ore troviamo la quadra, telefonatemi che risolvo tutto. Abbiamo sentito questo. Io sto da un'altra parte, io dico che è complesso, che è faticoso, che questo lavoro se non vuoi prendere in giro gli italiani deve dire la verità, in questa fase, con questo quadro politico, fare un governo è complicato, dopodiché guardo agli interessi generali e mi domando come il PD può contribuire dal suo 18%, quindi con grande umiltà, sapendo che noi il 4 di marzo i cittadini ci hanno detto delle cose ben precise e le hanno detti a noi prima di tutto. Il soggettaio Giacomelli oggi dice ma insomma ritire di missione Renzi e vada a vedere lui come stanno le cose. È uno sgarbo nei suoi confronti? ma per l'amor di Dio ma questo non sono fatto di questo, è una posizione legittima credo che vada rispettato anche il passaggio e la scelta che Matteo Renzi ha fatto dopo il 4 che io riconosco e va rispettata perché quando un leader prende atto di una situazione e si fa carico di una scelta ci vuole rispetto e quindi quello che chiedo è di contribuire tutti a sviluppare questo lavoro e come ho detto prima c'è bisogno anche di lui perché è certo che ha una forza e ha come dire una esperienza importante per il Partito Democratico non esclusiva ma fondamentale per il PD allora sentiamo aumento il 25 aprile del PD che è da subito per noi da Elisa Garesi e Stefano Saraceni la sinistra deve allearsi con i 5 stelle per fare un governo o no? abbiamo un'altra domanda? fare o non fare il governo con i 5 stelle? il dilemma attraversa il 25 aprile del Partito Democratico e di tutta la galassia di sinistra divide i dirigenti tra loro e anche la base per una parte del PD quella non renziana bisogna accogliere l'occasione e accettare il dialogo governo con i 5 stelle e si deve fare? vedi io penso che il modo migliore di non essere subalterni ai 5 stelle è vincere le elezioni punto primo sta cambiando tutto almeno discutere penso che sia una di quelle cose alle quali non possiamo rinunciare questa è la giornata delle radici della memoria e credo che ci dica tanto anche di quello che dobbiamo fare Matteo Renzi da Firenze si augura sia una giornata di riflessione oltre che di memoria lui è per il no all'accordo ma tra i dirigenti cresce il fronte del dialogo via Tasso Museo della Liberazione se c'è un programma che ha un senso si può anche verificare il Partito Democratico deve innanzitutto ricordarsi che 4 milioni di suoi elettori hanno votato Movimento 5 Stelle al corteo del Lampi invece tra pugni chiusi e cori che intonano Bella Ciao l'accordo non trova molti fan io sono iscritta al Partito Democratico e questi nuovi movimenti che si vanno a definire né di destra né di sinistra lo stanno facendo politica cosa pensi che dovrebbe fare adesso il PD provare a fare un governo di 5 Stelle o no? no credo di no no secondo me no perché ogni partito a sé dovrebbe essere votato dalla gente per la scelta che fa ma i 5 Stelle sono di sinistra? assolutamente no è ciò che è meno di sinistra insieme a Salvini in questo momento in Italia non si può dire che il Movimento 5 Stelle sia di sinistra perché non fa politica di sinistra fa politica europeista allora hanno detto che volevano uscire ma poi non sono più usciti anche qui a spingere per il dialogo sono i dirigenti il PD deve discutere e deve attentamente valutare le proposte che verranno fatte e sono per l'accordo i sindacati e noi ci interessa che ci sia presto un governo perché abbiamo tante trattative in piedi difficili e complicate il PD deve provare a fare un governo con i 5 Stelle secondo lei? secondo me sì anche perché è l'unica opzione parlamentare ma i 5 Stelle hanno qualche cosa di sinistra o no? i 5 Stelle hanno la base sociale di sinistra bel dilemma che solo la direzione nazionale del PD potrà sciogliere con una conta e poi si vedrà perché la conta? no cioè si può anche discutere e magari trovare una quadra più che una conta non crede che poi vi conterete in direzione no? cioè le pensi che la direzione spera che ci sia un voto unanime? io lavoro perché ci sia la massima unità possibile e credo che tutti lavoreremo per questo nella chiarezza ma senza neanche immaginare che adesso il passaggio è solo tutto in capo al PD la sua direzione perché francamente io voglio ricordarvi che cosa è accaduto in questi 50 giorni e quanto sono stati incapaci le forze che hanno prevalso il 4 e che hanno semplificato tutto come ricordavamo prima allora nel vecchio partito nel vecchio partito comunista si discuteva ma poi in nome del centralismo democratico alla fine si votava tutti insieme prevede una soluzione di questo genere cioè grande discussione democratica ma poi alla fine compatti nel sì o nel no senza evocare il centralismo democratico mi aspetto che il partito sia un partito faccia la comunità e quindi discuta abbia rispetto delle posizioni di ciascuno e poi quando sceglie sia ovviamente coeso unito senta lei parlava nel filmato di giornata appunto della memoria non le pare un po' stravagante che con tutto il rispetto per i palestinesi e per le loro sofferenze nel nostro corteo ci siano i palestinesi ma per ragioni ovvie non ci sia la brigata ebraica che ha fatto la resistenza e che oggi è stata pure coperta di insulti mi è spiaciuto ho capito della divaricazione che c'è stata in particolare qui nel corteo di Roma noi abbiamo bisogno di memoria condivisa abbiamo bisogno di memoria condivisa e se posso dire anche rispetto a questi nuovi fenomeni oltransisti estremisti neofascisti che ci sono mi hanno colpito le parole di questa staffetta partigiana che ho incrociato questa mattina nel corteo la staffetta partigiana luce che voglio salutare perché la segue sempre l'ha detto lei giuro lei ha detto ricominciamo dalle scuole lei va nelle scuole e dice ricominciamo da lì perché i sentimenti di intolleranza li non portano li 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 cogliamo già nelle scuole elementari nelle scuole medie raccontava di alcune sue esperienze in queste scuole dove capisci già dove purtroppo attecchisce il germe dell'intolleranza allora io vorrei dire almeno oggi proviamo davvero tutti insieme a fare questo lavoro ripartiamo dalle scuole allora il nostro Mauro Giliberti e Giulio Mainenti sono andati a caccia di Matteo Renzi al 25 aprile di Firenze vediamo che cosa è successo Presidente buongiorno ma come può fare il governo con chi l'ha insultata per anni dove sei Montecatini Montecatini che fa questo governo non di Maio vai alla foto ora poi siamo a un periodo di stringere patti con il Movimento 5 Stelle ma perché lo fa sto patto con il Movimento 5 Stelle? bravi sto lei con la palliera rossa sarebbe contento ma in un periodo il primo 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 l'inglese devo dire molto migliorato mi permetto il giornale era difficile per esempio per esempio five stars non riesce a tradurre five stars si traduce spostati 5 stars dai falla finita a tutti e buon 25 aprile buoni c'è l'indica l'italia se desto dell'elmo di città la testa sentite lui è l'opposizione di firenze con maso grassi e lei presidente maggioranza in opposizione che vuoi questo noi non stiamo capendo il governo non vuol parlare oggi è la festa della liberazione la festa della libertà un misero speciale però un grande italiano il presidente giorgiano peritano sta combattendo forte e siamo tutti con noi ha migliorato l'inglese ma è stonato è il segretario ma è stonato come canta o è stonato politicamente no 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 non è neanche troppo stonato come canta da quanti mesi non sente renzi da quanto tempo non sente renzi ci sentiamo ci sentiamo posso chiedere l'ultima volta che l'ha sentito mezz'ora fa davvero ma non credo che interessi molto agli italiani e oddio non avete parlato la fiorentina credono no perché sennò li litighiamo su serio e allora l'ho detto prima ci confrontiamo ragioniamo insieme raccomandazioni per domani mattina credo che ci siano tutte le condizioni per fare un buon lavoro so che è faticoso non lo nascondo e però ci si ascolta e poi si prova a prendere la direzione insieme questo è il mio lavoro ma lo faccio con renzi come con gli altri non l'ha detto sta attento a quelli la guarda attento che ti fregano ma ci scambiamo valutazioni come giusto che sia in una fase così tanto più in una fase così possiamo immaginare che siano in questo momento valutazioni rispettosamente divergenti con punti di vista differenti senz'altro ma non c'è nessuna nessun problema anzi si vive non crede in questo dialogo vero no non voglio avventurarmi nella discussione su ciò che crede lui dico che si fa bene facciamo bene a confrontarsi ad essere rispettosi dal punto di vista di ciascuno allora chiudiamo con Silvio Berlusconi che ha fatto il suo 25 aprile a Porsus in Friuli Venezia Giulia dove furono massacrati 17 partigiani bianchi dai partigiani comunisti Marzia Maglio Silvio Berlusconi è arrivato in Friuli Venezia Giulia per tirare la volata al candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga e nel giorno della liberazione il leader di Forza Italia si è ritrovato a parlare agli elettori da uno dei luoghi più significativi dove hanno convissuto e si sono contrastate le forze partigiane le istanze oltre i confine le fughe le passioni e la voglia di libertà Siamo impegnati, consentitemi soltanto una parola sull'attualità, a cercare una soluzione alla crisi politica, una soluzione che non può tollerare veti, preclusioni ma sia una soluzione rispettosa dal voto espresso dagli italiani L'evento più suggestivo oggi alle malghe di Porzus che furono lo scenario nel 1945 di una tragica pagina di scontri tra le forze partigiane Siamo impegnati, consentitemi soltanto una parola sull'attualità, a cercare una soluzione alla crisi politica, una soluzione che non può tollerare veti, preclusioni ma sia una soluzione rispettosa dal voto espresso dagli italiani In molti sono rimasti in fila in attesa di una foto ricordo o di una stretta di mano L'abbiamo atteso tanto ma ce l'abbiamo fatta Poi un riferimento esplicito E poi mi sono trovato con dei miei coetanei che mi avevano conosciuto, ci siamo abbracciati e poi gli ho detto allora voi per chi avete votato? E con mia grande sorpresa mi dissero abbiamo votato per il 5 Stelle Come mai? Eh, gli sono venuti qui a dirci che una, due settimane dopo che avessero vinto le elezioni ci avrebbero dato 800 euro di reddito a ciascuno di noi E voi gli avete creduto? Eh, quello che ce lo diceva era molto serio e quindi gli abbiamo creduto Chiudiamo sulla prospettiva del voto anticipato Quante probabilità ci sono che si vada a votare ad ottobre? Non poche, purtroppo Però io credo che sia una prospettiva da evitare Lo dico innanzitutto per il Paese Perché credo che l'Italia abbia bisogno di stare dentro la nuova stagione Innanzitutto che sia aperta a livello europeo con la forza di un governo operativo Capace di giocarsi le carte del Paese rispetto a questo scenario Abbiamo bisogno di lavorare ancora sul terreno economico sociale Di fare delle scelte E sinceramente sono preoccupato da uno scenario che ci porti a voto Ma un eventuale vostro governo con i Cinque Stelle è l'ultima opzione Dopo questa si viene in Repubblica a decidere a lui Naturalmente tocca al Capo dello Stato Tocca al Capo dello Stato Però guardiamo come si stanno posizionando gli schieramenti In particolare alcuni partiti Le parole stesse di queste ore Del Presidente diciamo Quindi io suggerirei molta molta attenzione Bene Buon lavoro Grazie Grazie Grazie